Ho tenuto tutto nascosto dentro di me, però non ce la facevo più. Purtroppo ho scoperto, grazie a un vero miracolo, un miracolo puro, un brutto male, in settembre del 2012, un tumore maligno e dei più brutti. Però sono riuscito, con la tenacia, la forza e l'amore della mia famiglia, di mia moglie, le mie figlie, i miei nipotini, a musica, che ancora una volta mi ha salvato. Devo cercare un posto dove andare a morire senza dare fastidio a nessuno. E cosa ne sarà dei miei cari? Come farò senza di loro? E loro come faranno senza di me? A batteria, a batteria mia. Allora dissi no, non sono pronto, bastardo, ti stannerò, ti accicherò, in modo che non troverai più la strada del tuo rifugio dentro di me.